C'è un luogo nella provincia di Pesaro e Urbino dove la Befana è ormai di casa. Eh sì, e sapete dov'è? Nel borgo di Urbania, da dove per 22 edizioni si celebra la festa nazionale della Befana. Un evento molto sentito dalle famiglie. Il desiderio dei più piccoli, oltre a quello di incontrare la vecchina, è la richiesta di dolci o giocattoli da inserire nella calza in occasione della fine delle festività di Natale. Una Befana ben voluta da tutti, anche dal primo cittadino Marco Ciccolini, che le ha consegnato venerdì scorso le chiavi della città di Urbania. Devo dire che si è comportata veramente bene e ha confermato una festa a livello nazionale, perché tante persone, tanti bambini che sono venuti da tutta Italia, con camper, con pullman in macchina, e hanno riepito questa città e hanno portato tanta gente nella provincia di Pese dell'Urbino. Un'intera città addobbata a festa, con luci, colori e centinaia di figuranti. Tante anche le attrattive, come la casa, l'ufficio postale e l'officina della Befana. Ma c'è anche un Guinness World Record e la calza più lunga del mondo, che ha sfilato per l'ultima volta su tutto il centro storico. In più, da qualche edizione, c'è anche la sciarpa dell'amore, segno di amicizia tra tutti i bambini del mondo. Questa sciarpa ha un significato, è chiamata la sciarpa dell'amore. Io ho due anni che la faccio, però è da dieci anni che è stata cominciata. Quindi un pesettino alla volta, così andiamo su tanti metri, sarà 35 metri anche più. Sì, quindi ad agosto è da piacere, perché si fermano anche le famiglie, poi vogliono imparare a fare la maglia. E per concludere il ricco fine settimana di eventi, il momento più atteso ed anche il più caratteristico, l'ascesa della Befana dalla torre campanaria del comune. Possiamo definire questa edizione un'edizione magica, un bilancio sicuramente positivo per la festa nazionale della Befana di Urbagna. Fin dal giorno 4, giorno di apertura, si sono registrati un boom di presenze. Oggi, 6 gennaio, la città di Urbagna è invasa da turisti da Nord Italia fino al Sud Italia. La festa nazionale della Befana chiude così il ricco calendario di eventi del Natale che non ti aspetti, organizzato dall'UMPLI di Pesaro Orbino. La bufera vincerà, cantando trullata...